Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto professor Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, buonasera Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera, buonasera Diego Bianchi, conduttore di propaganda live il venerdì qui sulla 7 e tra l'altro riparti tra pochi giorni ma ne parleremo, buonasera allora il feroce omicidio di Willy a Colleferro ha scioccato l'opinione pubblica profondamente anche il premier Conte si è detto scioccato e si è chiesto che messaggio stiamo dando ai nostri ragazzi subito dopo la pubblicità Grazie a tutti Allora Beppe Severnini, stasera vorrei partire dal feroce omicidio di Willy a Colleferro che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e anche il presidente del Consiglio Conte si è detto scioccato e ha detto che siamo di fronte a una violenza cieca, ha anche chiamato i genitori del ragazzo e Conte si è chiesto che messaggio stiamo dando ai nostri ragazzi e a mio figlio di 13 anni devo dire di non intervenire se vede una lite? Il presidente del Consiglio secondo me non ha il diritto arrivo a dire di essere scioccato perché fa il presidente del Consiglio ma non lo sa cosa succede nelle notti italiane dalla Sicilia all'Alto Adige, dalla Lombardia alla Puglia quello che è successo, noi ne stiamo parlando e facciamo molto bene a parlarne perché è morto un ragazzo ma tutti quelli che non sono morti e hanno avuto ferite gravi sono veniti in ospedale, sono stati accoltellati, sono state prese abbottigliate questa è ordinaria amministrazione fuori dalle discoteche di notte, sulle strade c'è gente piena di coca fino qui e bisognerebbe cominciare a controllare insieme all'alcol anche la cocaina e che poi va fuori, è scatenata e non soltanto per la cocaina perché una persona tranquilla con la cocaina fa una cosa un violento si comporta in un certo modo se la prognosi è inferiore ai 20 giorni devi agire per querela di parte molte famiglie, molte persone non intervengono non denunciano perché hanno paura delle ritorsioni e perché sanno che se questo lo beccano questo maschile, perché sono tutti maschi se questo lo beccano non succede praticamente niente perché abbiamo un codice penale arretrato cosa fa? Va dentro due mesi, tre mesi viene fuori, lo rifà, si vanta pure la mia idea è tu lo prendi una volta che la fa non questi, a questi spero che gli diano tutte, se sono stati loro tutte le aggravanti possibili e immaginabili quello che hanno fatto è mostruoso ma anche i picchiatori abituali del sabato sera di cui l'Italia è piena sei stato tu, io ti prendo e ti faccio fare sei mesi di servizi sociali in una casa degli anziani pulisci i letti e i gabinetti non lo fanno più quello sarebbe un modo di far andare avanti l'Italia altro che scioccato Allora, Diego Bianchi sei d'accordo con quello che ha detto Severini? perché lui dice è ordinaria amministrazione un Presidente del Consiglio invece che essere scioccato e porsi dei quesiti che sono più che legittimi che credo in tanti ci facciamo dovrebbe invece cercare di garantire una giustizia rapida un intervento pronto delle forze dell'ordine eccetera eccetera e aprire gli occhi di fronte a periferie degradate ma non solo perché ha ragione Severini poi insomma la droga gira dappertutto ne gira tantissima soprattutto la cocaina secondo te è la spia di che cosa questo omicidio di... la cosa più interessante è la risposta che si sta dando in questo momento Conte alla domanda iniziale che messaggio stiamo dando in quanto Presidente del Consiglio forse dovrebbe essere il primo a rispondersi e a risponderci la politica in questo senso ha delle enormi responsabilità la propaganda di cui parliamo tutti i giorni sui temi più disparati è una propaganda ormai abituata a parlare fondamentalmente alla pancia orgogliosamente in maniera dichiarata alla pancia ai muscoli e pochissimo alla testa quelle sono zone la zona dove è successo questa cosa con le ferro paliano tra la provincia di Frosinone e la provincia di Roma dove in questo momento sono da anni ci sono delle forti lotte per l'ambiente ci sono delle fabbriche zona di lotte operaie dove la cultura della legalità è molto faticosa è molto faticosa e non è la prima probabilmente strada che magari un giovane si trova a prendere però ci vuole l'esempio della politica per indicargliela mentre invece poi spesso si finisce nella criminalità nella delinquenza abituale in questi giorni in questi giorni in queste ore è pieno di interviste di gente che dice sì ma quei ragazzi li conoscono tutti abitualmente andavano a riscuotere per conto del crimine organizzato della zona e so che in questi giorni si sta valutando anche si parlava dell'aggravante l'aggravante razziale perché Willy era un italiano ma di colore capoverdiano e ovviamente nessuno può saperlo con certezza ma è tutto molto verosimile perché sempre tra le dichiarazioni rilasciate e mai smentite c'è una dichiarazione di un parente che dice vabbè in fondo hanno ammazzato un immigrato ora al di là del fatto che questa frase sia stata pronunciata davvero è una frase verosimile può essere stata benissimo pronunciata basta andare sui social oggi e si trova di peggio si trova gente che fa i complimenti ai ragazzi diciamo protagonisti di questa vicenda dicendo bravi che avete tolto di mezzo quello scimpanzee roba che ho letto oggi non è roba per sentito dire sta ancora là su facebook si trova facilmente quindi questo è il paese nel quale stiamo e non è solo neanche poi alla fine un fenomeno italiano perché ricordiamoci noi abbiamo finito la trasmissione con Black Lives Matter e là ieri qualcuno mi chiedeva quella differenza c'è tra l'uccisione di Floyd e l'uccisione di Willie l'uccisione di Floyd è che Floyd è stato ucciso dalle forze dell'ordine però un privato cittadino che vede quella consuetudine portata avanti dalle forze dell'ordine per esempio probabilmente si può anche chiedere perché non posso farlo io alla fine perché è così grave uccidere un nero se quello è l'esempio che viene dato in quel caso per esempio dalle forze dell'ordine è di dominio pubblico ormai sono conversazioni che senti io sono andato a Lampedusa la settimana passata e all'aeroporto davanti a me al check-in c'era uno con il tatuaggio delle SS sul collo così stava davanti a me e faceva il biglietto per carità non è che vorresti impedirgli di fare il biglietto però si può fare una cosa adesso diciamo parafrasando un tormentone estivo si può fare quasi tutto quello che prima non si poteva nel senso che non si ha più vergogna di dirsi fascisti di dirsi razzisti doganate troppe cose per usare un eufemismo e questo può anche essere il prodotto di questa cultura voglio solo ti ridò subito la parola per se venire voglio interpellare subito anche il professor Galli lei la conosciamo tutti come grande esperto di coronavirus ma lei è anche un attento osservatore della società italiana che cosa l'ha colpita in particolar modo di questa vicenda ma l'orrenda brutalità è lo squallore terribile che dovrebbe albergare alberga nella testa delle persone che possono essere arrivate a fare tanto però queste sono banalità direi che difficilmente posso aggiungere altro quanto già detto in maniera assolutamente precisa sia da Beppe Severnini sia da Bianchi e sono cose che condivido a pieno compreso il sospetto che in tutto questo ci sia una gravante specifica legata a una definiamo l'espressione di odio razziale infatti questo poi lo capiremo lo sapremo meglio nelle prossime ore nei prossimi giorni senta professor Galli a proposito di virus da giorni il leader della Lega Salvini accusa il governo di avere nascosto il piano che delineava vari scenari del comitato tecnico scientifico che è stato fatto all'inizio della pandemia a febbraio è una polemica fondata secondo lei e si poteva fare diversamente da quello che è stato fatto dalle forze del governo io so di aver partecipato come sapete non sono componente del comitato tecnico scientifico ma di aver partecipato alla revisione di un altro documento che è il piano pandemico riguardante l'influenza credo che l'ultima versione che mi sia stata inviata risalga al 7 di luglio e che ci si tornerà sopra per quanto riguarda un documento un piano pandemico fatto dal comitato tecnico scientifico beh francamente non so né se sia stato steso né se esista non ne so assolutamente nulla se la domanda è se è opportuno lavorare a questo proposito la mia risposta è ovviamente sì ritengo che il comitato tecnico scientifico abbia lavorato in questi mesi in maniera continuativa per cercare di volta in volta di dare delle risposte di tipo scientifico a quelle che erano le varie emergenze e emergenze in questo caso ha il termine al contenuto più vasto che gli si possa dare le varie emergenze che di volta in volta si sono presentate certamente siamo di fronte a una malattia nuova una condizione nuova senza precedenti e via così lavorarci sopra per il futuro e riformare profondamente l'organizzazione sanitaria del nostro paese tenendo conto di questa esperienza credo che sia un elemento di importanza fondamentale irrinunciabile e assolutamente da perseguire Beppe Severnini Salvini appunto insiste nell'attaccare il governo sulla gestione della pandemia allora gli italiani italiani dei quali ti occupi peraltro nel tuo nuovo libro che si intitola neo italiani e poi capiremo chi sono questi neo italiani migliori o peggiore di quelli vecchi precedenti ecco ma gli italiani secondo te pensano che l'emergenza coronavirus sia stata gestita male? Secondo me l'emergenza coronavirus è stata gestita abbastanza bene dal governo l'ho scritto ne sono convinto ed è stata gestita decisamente bene da noi italiani questo libro non è sul coronavirus ma io ho capito e ho continuato l'ho scritto con passione gli ultimi quattro mesi perché ho capito che qualcosa era successo anche nella nostra testa siamo stati bravi cioè noi abbiamo avuto un periodo particolare se posso riassumere l'anno due mesi di preoccupazione due mesi di reclusione due mesi di illusione due mesi di confusione siamo arrivati a fine agosto adesso se i governanti vogliono ringraziare i governati quindi noi ci diano quattro mesi di organizzazione cioè i soldi del recovery fund valgono quasi due volte il piano Marshall si può ribaltare il paese cosa aspettiamo non ho capito cosa stiamo aspettando per avere ecco quello sarebbe un modo pare che la maggioranza di governo sia al proprio interno un po' divisa per cui insomma l'elaborazione dei piani dei progetti da presentare all'Europa per ottenere i soldi c'è un capo di governo quello che stasera c'è il capo di governo si chiama Giuseppe Conte decide lui alla fine è un bravo mediatore secondo me lo ha dimostrato adesso deve capire che deve diventare uno che decide i capi decidono sembra una cosa più un po' più difficile questa in Italia Diego Bianchi no? allora intanto però ti voglio chiedere tu che estate hai passato da che punto di vista te ha da che cosa hai fatto quest'estate come ti sei comportato nel senso che abbiamo visto tanti comportamenti ah come sono comportato io non tanto adeguati a un'emergenza e a una pandemia io sto nella categoria dei paranoici ah sì? si è abbastanza per cui mascherina anche più della media diciamo non mi sto facendo né complimenti è proprio un dato di fatto e però e per il resto famiglia nulla di particolarmente esotico Italia Sicilia Cilento e Marche posti dove vado abitualmente da sempre anche da prima del coronavirus e e però ho constatato ho visto insomma ecco ora Severnini parlava dateci quattro mesi per organizzarci anche non solo appunto la gestione del recovery fund diciamo pure a noi italiani durante quest'estate ho avuto la percezione a tratti che ci sia stata una specie di baratto estate-autunno non detto no? come dire salviamo la stagione estiva facciamo anche qui tutto quello che non si poteva apro una parentesi il tormentone di prima non era sul fascismo era sulla quarantena ho solo usato questa cosa no? perché non si è mai e la gente un po' ha cercato di fare tutto quello che non si poteva mi è piaciuta poco c'è stata una specie di criminalizzazione dei giovani io ho una figlia di 17 anni che ho faticato moltissimo a tenere a bada dal punto di vista della sicurezza comportamentale quanto al coronavirus mascherina distanza però non ho visto i miei coetanei dare dei grandissimi esempi ho visto gente della mia età ballare reggaeton accalcati uno sopra l'altro protetti solo da un mojito senza pietà senza mascherina ovviamente e mi sono guardato e dicevo ma forse ero passati solo io questi tre mesi in quarantena cioè la sensazione era un po' liberi tutti è passata ora quanto questo sia passato diciamo che volta sentiamo il professor Galli e tutti i suoi colleghi e cerchiamo di capirlo questo non lo so e allora glielo chiediamo glielo chiediamo subito intanto voglio chiederle il professor Galli se è d'accordo con Diego Bianchi c'è stata una specie di baratto l'estate autunno e la preoccupa di più la riapertura della scuola oppure l'elezione imminente ricordiamoci che ci sono elezioni in alcune regioni italiane ma poi c'è il referendum in tutta Italia cosa la preoccupa di più questa cosa delle elezioni è per me lacerante da quando ho compiuto i 21 anni che mi definivano maggiorenne io non ho mai mancato un'elezione facendo anche talvolta i salti mortali per arrivare addirittura da altri continenti in tempo per votare ritengo che sia un dovere dei cittadini e ritengo che sia un dovere dei cittadini comunque sempre se le elezioni vengono indette però perdonatemi come si fa a pensare che non sia contraddittorio avere una emergenza sanitaria in atto e le elezioni indette come se nulla fosse soprattutto dopo un'estate che francamente è stata un'estate molto frizzante e con molte posizioni così non di di grande no di grande attenzione e con questo sono molto d'accordo anche sul fatto che non vadano criminalizzati i giovani è chiaro che il giovane più giovane è più si ritiene immortale e superiore ad ogni tipo di rischio ma è anche chiaro che non andremo da nessuna parte anche nei contesti della prevenzione nella scuola e comunque nell'ambito giovanile in generale se non saremo capaci di aprire al protagonismo giovanile nella prevenzione se non saremo capaci guardi ho fatto anni di lotta all'AIDS nell'ambito delle scuole e questa cosa credo di averli imparato molto bene l'educazione tra pari il protagonismo giovanile nella prevenzione il coinvolgimento delle persone del paese tutto in una cultura della responsabilità personale che diventa anche responsabilità collettiva è importante certo che se la politica facendo i suoi conti che spesso sono conticini trova assolutamente normale avere un'emergenza sanitaria i casi che crescono e fare le elezioni ti ritrovi in franco imbarazzo dopodiché dirò comunque sempre italiani andate a votare mettetevi la mascherina state attenti e pigliatevela con chi ve la dovete pigliare se questa cosa che vi è stata fatta fare comporterà dei danni perché alla fin dei conti bisognerà che qualcuno si pigli le sue responsabilità e in questo caso credo che siano trasversali e la classe politica tutta si ricordo anche che quando qualcuno aveva ventilato la possibilità di eventualmente rimandare queste elezioni per una questione di sicurezza naturalmente c'è chi ha urlato al ecco non vogliono più farci esprimere non vogliono farci andare al voto eccetera eccetera ma lei visto che va sempre a votare quindi andrà a votare per questo referendum professor Galli diciamo che ci andrò perché ci devo andare perché comunque uno io vado a votare sempre e voterà sì o no? guardi la cosa mi emoziona talmente poco che deciderò quando dovrò deciderlo insomma ecco va bene molto diplomatico Severnini tu? io avrei perché poi dicono che faccio politica io avrei insomma adesso uno può anche vabbè insomma non voglio estorcerle nulla il professor Gaida giovane faceva politica io sono informato abbiamo amici comuni lui non lo sa era molto attivo e appassionato rispondo alla tua domanda Lili avrei sono d'accordo con il professore si vede avrei anch'io inviato rinviato le elezioni regionali al referendum era saggio dal momento che c'è andrò a votare solo al referendum perché in Lombardia non si vota e credo che voterò sì questa volta posso dirti perché certo perché sono convinto che il meglio è nemico del bene e che certo è una riforma non così importante voto senza il mio voto sarà senza entusiasmo è una riforma che poi sarà necessario approvare altre leggi per non far pasticce se non entriamo nei particolari però se ogni volta che si propone di cambiare qualcosa nella Costituzione alla fine non succede niente il messaggio sarà chiarissimo non cambierà mai niente e poi i partiti quattro volte l'hanno votato e adesso si svegliano e no stavolta voto sì ho capito Diego Bianchi sul referendum il PD si è schierato per il sì assieme al Movimento 5 Stelle e Di Maio ha detto che questo fa bene all'alleanza si sta consolidando però forse solo l'alleanza quella di governo perché alle regionali sono andati più o meno ognuno per conto suo ma che il PD si sia schierato per il sì che è una notizia di poche ore uff no perché anche questo va detto sì nella direzione di ieri hanno deciso diciamo che è un partito che fa una campagna elettorale anche referendaria diciamo una decisione del genere un tempo la prendeva prima è una decisione che fa bene non all'alleanza secondo me fa bene a Di Maio e quanto ieri sono passato davanti a una sezione del PD mi hanno fermato mi ha fermato un ragazzo e mi ha detto guarda io farò un'iniziativa sul referendum perché qua nessuno ci dice niente io sono segretario di questa sezione mi sembra strano non dire nulla ai nostri militanti questo tanto per apro e chiudo parentesi è proprio una voce presa da militanti che ancora ci stanno ogni tanto si incontrano e al di là della festa di moda in realtà ci stanno ma sono un po' ecco un po' poco disorientati un po' disorientati e quanto all'alleanza non so se regga io sono uno di quelli che pensa sempre che i test amministrativi abbiano una valenza nazionale è una mia forma mentis particolare ci sono stati casi dove bastava una regione a creare una crisi di governo una crisi di segreteria e invece adesso ormai da un po' di tempo non solo questa campagna elettorale ovviamente di cui non si sa l'esito ma anche elezioni passate vedo che si perdono regioni anche storiche parlo della sinistra come se nulla fosse come se fosse una partita di calcio come se non fosse una cosa grave una cicatrice che sanguina faccio riferimento in particolare a una regione che ho particolarmente a cuore dove passo le vacanze dove vado da quando sono nato che sono le Marche che è una regione storicamente di sinistra e che adesso nei sondaggi nelle chiacchiere a parte non viene mai citata si parla solo della Toscana come regione da contendibile e niente sembra come che sia destinata ad andare da una parte senza neanche l'orgoglio sto vedendo in questo momento un po' mi dispiace c'è ancora tempo per carità c'è tempo per ribaltare i pronostici per provarci hai citato Modena alla festa dell'unità stasera Conte è lì è ormai riconosciuto accettato come un uomo un leader di sinistra Conte capisci? era una domanda mi sembrava un'affermazione no era una domanda temo temo di sì che sono anche qua come i tormentoni a furia di ripetere le cose ma alla fine la gente ci crede per cui alla festa del PD dove insomma la leadership in questo momento non è fortissima si può dire senza problemi arriva Conte non so cosa stia succedendo da quelle parti ma non faccio fatica a credere tra l'altro Conte è stato indicato dallo stesso Zingaretti come punto di riferimento per i progressisti dimenticando il fatto che è quello che ha fatto i decreti di sicurezza con Salvini allora vedremo professor Galli non le chiedo naturalmente niente se no dicono che lei fa politica però le voglio le voglio chiedere della Francia invece perché in Francia hanno annunciato che il periodo di quarantena per per chiunque per chi sarà ritenuto positivo il periodo di quarantena è stato abbassato da 14 giorni a 7 è una misura ragionevole questa secondo lei e dovremmo adottarla anche noi? è una misura burocratica figlia di un'altra misura burocratica nel senso che quando l'organizzazione mondiale della sanità quando l'organizzazione mondiale della sanità si è resa conto che nella gran parte dei paesi nel mondo non sarebbe stato possibile fare i test aveva stabilito a suo tempo 14 giorni di quarantena ti saluto e sono nel frattempo ci si è resi conto che una fetta importantissima e più si tratta di infezioni in giovani più questa fetta si ingrossa più del 30% forse del 35% del 40% delle persone che si infettano sono asintomatiche senza sintomi e possono trasmettere l'infezione quindi dopo 14 giorni uno che è asintomatico e che resta tale ma che è infettato se ne esce di casa e sputacchia virus se si è infettato nel frattempo quanti di tutti questi quanti dei contatti delle persone che si sono a loro volta infettate possono fare questa cosa esattamente non lo sappiamo lo stesso discorso ovviamente si applica a maggior ragione se i giorni sono sette l'incubazione media della infezione anzi della malattia quando si esprime clinicamente è di 5 giorni circa si arriva a 14 giorni per coprire l'intero arco è abbastanza evidente che se noi al settimo giorno facessimo il test e trovassimo un test negativo questo avrebbe un senso e nei paesi definiamoli ricchi anche se pensando a noi è una angoscia meglio stare con i test è ora di fare i test è inutile ma poi abbia pazienza se uno viene dalla Bulgaria o dalla Romania deve andare in quarantena se uno viene dalla Spagna dalla Croazia da Malta o dalla Grecia fa il test e ovviamente fa il test se lo se lo trovano alla frontiera o in qualche ambito dove esiste questa indicazione dovrebbe fare il test e poi liberi tutti è un pochino come dire è un po' contraddittorio sballato questo quadro sì sono d'accordo con lei forse sarebbe giunto il momento di mettere mano avendo però un coraggio che è proporzionale alla capacità di garantire cosa? parolina magica i test allora Diego che noi facciamo sempre molto meno di Spagna e di Francia oltretutto appunto Diego siamo in chiusura siccome accennavo prima al fatto che tu venerdì torni con il tuo propaganda live che va in onda ogni venerdì dopo di noi dopo 8 e mezzo speriamo di farti da un buon traino come aprirai questa stagione e come cambia la propaganda al tempo del virus un po' ce l'hai detto prima la propaganda al tempo del virus è la stessa del virus nel senso che è estremamente cinica e utilizza il virus come clava quindi abbiamo tesi di sinistra tesi di destra e non mi sembra che ci sia da questo punto di vista nessun pudore e per quel che riguarda noi come apriremo? apriremo facendo al nostro modo una sintesi dell'estate inevitabile e appunto l'ho detto prima sono stata a Lampedusa quindi parlerò anche di questo e posso annunciare un ospite avremo un collegamento dagli Stati Uniti Don Winslow il famoso romanziere scrittore molto critico con Trump molto critico con Trump diciamo che abbastanza schierato abbastanza di parte e per questo ci piace bene quindi venerdì guardate dopo di noi Propaganda Live ma ovviamente ve lo ricorderò e come vi ricordo che c'è il nuovo libro di Beppe Severnini pubblicato da Rizzoli Neo italiani un manifesto come sono cambiati gli italiani col virus telegrafico telegrafico gli italiani hanno dimostrato noi italiani abbiamo dimostrato di sapere essere seri non tutti non sempre ma complessivamente abbiamo dimostrato nel 2020 di sapere essere seri ma ce ne vergogniamo quasi ci rovinasse la reputazione questo è il mio riassunto che è assurdo ma i neo italiani esistono nuovi seminuovi usati neo italiani allora approfondiamo subito col punto di Paolo Pagliaro guardate una pandemia come una guerra come qualsiasi grave crisi è rivelatrice ci fa capire meglio le persone le comunità le organizzazioni e le nazioni negli Stati Uniti molti cittadini sono scesi in strada alcuni armati a chiedere una riapertura rapida in Francia ci sono stati grandi proteste di piazza in Gran Bretagna dozzine di torri telefoniche sono state incendiate nella grottesca convinzione che la tecnologia 5G contribuisse a diffondere il virus a Berlino ci sono stati agguerriti cortei nulla di tutto questo in Italia nessun incendio nessuna rivolta nessuna violenza solo qualche piccolo raduno folkloristico a emergenza rientrata gli italiani hanno deciso che il lockdown aveva senso e per oltre due mesi sono rimasti chiusi in casa e pazienza se non è stata una decisione collettiva ma la somma di 60 milioni di decisioni individuali come osserva Beppe Severnini nel suo nuovo libro Neoitaliani stampato da Rizzoli 15 anni dopo La testa degli italiani il libro che tradotto in 14 lingue ha spiegato agli stranieri molti aspetti del nostro carattere Severnini racconta come nel frattempo siamo cambiati complice anche all'emergenza coronavirus lo fa pubblicando una sorta di manifesto dell'identità nazionale in 50 punti è una galleria di risorse che spesso non sapevamo di possedere come l'improvvisa disciplina di cui siamo stati capaci un elenco di urgenze che ora ci sono finalmente chiare come quella di pagare meglio chi fa lavori essenziali e di ridurre per questo l'evasione fiscale ora stabilire una gerarchia dovrebbe risultare più semplice perché tutti abbiamo riordinato le nostre priorità e la nostra scala di valori tra un influencer e un infermiere scrive Severnini sappiamo chi scegliere ecco speriamo di saperlo grazie professor Galli grazie Diego Bianchi di nuovo qui sulla 7 con il suo propaganda live venerdì prossimo grazie Beppe Severnini grazie a te a Paolo Pagliaro siete stati molto generosi e vi ringrazio il tuo nuovo libro neo italiani pubblicato da Rizzoli grazie spettatrici e spettatori e stasera riparte di martedì con Giovanni Floris con molti ospiti dal ministro Speranza a Zingaretti a Luigi Di Maio Bersani e anche la virologa Ilaria Capua quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani oltre mezzo arrivederci grazie a tutti